Onorevole, Iannuzzi a che punto sono i preparativi del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale? Abbiamo avuto una vicenda molto positiva, questo del Congresso, con una grande partecipazione di popolo, oltre 3 milioni di persone hanno votato il 25 ottobre in tutta Italia, oltre 300 mila in Campania, anche tanti in provincia di Salerno. Abbiamo il nuovo segretario nazionale, il nuovo segretario regionale Enzo Amendola, dobbiamo collaborare tutti lealmente per remare nella stessa direzione. Certo, l'appuntamento delle regionali è un appuntamento molto impegnativo e di straordinaria importanza, rispetto al quale noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo scrivere una pagina di innovazione nella vita pubblica, nella politica, nelle classi dirigenti, costruendo una coalizione nuova, chiara, alla luce del sole, con un programma netto, preciso e vincolante, con scelte che il più possibile diano il segno che si sia voltato pagina, perché noi sappiamo che un ciclo di governo regionale, con tante realizzazioni, ma purtroppo anche tanti ritardi e tanti rinvisi, è chiuso ed è necessario aprire un nuovo ciclo nel segno di una credibile vera speranza e anche di una credibile innovazione. Costruire una coalizione con chi, onorevole Enzo? Ma la coalizione si costruisce con tutte le forze politiche che condividono un programma fondato su pochi punti, precisi, netti e vincolanti, che evitano il ripetersi di quello che è accaduto in questi anni che sono alle nostre spalle, quando ad esempio non abbiamo concluso i lavori per il termovalorizzatore di Acerra, nella vicenda della gestione dei rifiuti per le resistenze che venivano da una parte della sinistra radicale. Il dialogo deve essere fatto nella costruzione di una nuova coalizione ed è un dialogo che deve, come si sta cercando di realizzare anche a livello nazionale, tenere le file della discussione e del confronto con le forze del mondo cattolico, dell'area moderata, che si raccorgono nell'Udc, con l'Italia dei Valori e con le forze collocate a sinistra del PD che accettano di porre fine ad una politica basata su vecchi pregiudizi, vecchi schemi ideologici francamente superati. Poi in concreto bisogna vedere chi è d'accordo sulle cose da realizzare e anche sulla identificazione della leadership.